Controlli contro il lavoro nero e il caporalato da parte dei militari del comando provinciale e dei carabinieri e con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro che hanno intensificato le verifiche in primo luogo in case di riposo, autolavaggi, esercizi pubblici, commerciali, edilizie ma anche agricoltura. In tutto sono stati 26 gli accessi ispettivi eseguiti nei comuni di Augusta, Pachino, Rosolini, Portopalo, Carlentini ovviamente nel capoluogo, 23 su 77 lavoratori occupati in nero. Sono emerse criticità in una casa di riposo di Augusta, un autolavaggio di Siracusa, 4 imprese di Lappachino, Augusta, Siracusa e Carlentini, una tabaccheria di Pachino, un panificio, una macelleria a Lentini, una pizzeria, un supermercato, un ristorante a Portopalo, un'azienda agricola a Noto. Per tutte e 13 le attività imprenditoriali è stato adottato il provvedimento di sospensione per aver utilizzato in nero più del 20% della forza lavoro. Nei confronti di sette datori di lavoro, inoltre, è scattata la denuncia in stato di libertà per diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, che riguardano l'omessa dotazione delle cinture di sicurezza ai manovari edili che lavorano in quota, mancata nomina del coordinatore per la sicurezza, mancata realizzazione di opere di contenimento in caso di caduta accidentale di persone o di cose dell'alto, realizzazione di ponteggio non ad opera d'arte e mancata delimitazione dell'area di cantiere per impedire l'accesso agli estrani. In tutti i casi sono state impartite opportune prescrizioni ai datori di lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza. E ancora, nei confronti di due titolari di impresa, è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura per aver utilizzato sistemi di videosorveglianza senza il preventivo accordo sindacale o autorizzazione dell'ispettorato territoriale del lavoro. Inoltre, già in sede di accesso ispettivo, oltre alla verifica immediata ai rapporti di lavoro e all'acquisizione delle dichiarazioni dei dipendenti, è stata disposta l'immediata cessazione del funzionamento degli impianti in quanto consentivano il controllo a distanza e l'operato dei dipendenti.